Torna per la quarta edizione Ecologicamente, la mostra mercato dedicata alla green economy e al consumo critico. L'appuntamento è in piazza plebiscito dall'8 all'11 maggio. Protagoniste sono le aziende che si occupano di energia rinnovabile, bioedilizia, ecodesign e mobilità sostenibile. Ampio spazio anche agli artigiani che utilizzano materiali riciclati, ai prodotti chilometri zero, all'agricoltura biologica e ai prodotti eco e solidali. Tanti dibattiti in programma, tra cui la tavola rotonda sul progetto Lumière per promuovere l'efficienza energetica nell'illuminazione pubblica e il dibattito di ETA Mediterranea lotta all'obesità infantile. Spazio anche allo sport con i festeggiamenti per i 70 anni del Centro Sportivo Italiano, la Strasolidale, la Kids Walking e un allenamento con il campione olimpico Clemente Russo. La manifestazione coinvolgerà infine le scuole cittadine con la festa della scuola, momento in cui saranno condivisi i lavori realizzati durante l'anno sui temi delle energie rinnovabili. Quest'anno ecologicamente coinciderà anche con la prima domenica ecologica, domenica 11, che verrà fatta nella città di Napoli per porre anche il tema, l'attenzione di tutti a un uso responsabile anche e limitato dell'auto a favore di mezzi pubblici o anche di un sistema di mobilità alternativo. Quindi siamo molto soddisfatti della partecipazione, almeno fino ora di quelli che hanno dato la loro adesione e soprattutto c'erano tante scolaresche che faranno visita agli stand e ai momenti anche di approfondimento, di riflessione sul tema dell'alimentazione, il tema della mobilità e sulle opportunità che la Green Economy può anche offrire ai giovani soprattutto in termini di nuovo e buono lavoro.